Grazie 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 Quindi noi abbiamo orecchie per queste valli, stiamo lavorando molto, stiamo investendo molto e quindi ci fa veramente piacere essere qui con voi condividere la domenica. Grazie a tutti e buona giornata. Vedo comunque tanta gente come avevo già visto l'anno scorso, ho visto ieri pomeriggio ero a Premana un'altra bella manifestazione della valle e queste due manifestazioni sono un bel esempio di attivismo, di tentativo di prolungare la stagione turistica anche al di là del solito mese d'agosto. Quindi un bel complimento agli organizzatori per gli sforzi, per la loro strategia e un augurio a tutti quelli che oggi partecipano a questa bella manifestazione, che si divertano e apprezzano i prodotti tpc della nostra bella valle. Ricordo innanzitutto per primo l'occasione per salutare le tante persone che anche quest'anno hanno deciso, e sono numerose, hanno deciso di venire a provarci. Devo dire che è un piacere vedere tanti tanti amici, ovviamente i cari buccesi, i vassassinesi, ma anche tanti privilegiati che hanno deciso anche quest'anno di venire a morso.